Qui vi presentiamo le 5 migliori preparati per Pancake Proteici. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Protein Pancake 1036G Unflavoured. Grazie alla pratica tazza di misura inclusa nel piano, preparare gustosi Pancake Proteici è il più semplice possibile. Infatti, è sufficiente dosare una misura della miscela, pari a circa 35-40 grammi di prodotto, e aggiungere mezzo passo di latte. Il risultato è un Pancake di circa 12 cm, da cucinare in una padella antiaderente. La possibilità di scegliere tra gusti diversi rende tutto ancora più scrupoloso. Passando al numero 4. Protein Pancake sa a basso contenuto di carboidrati e di grassi. Gli articoli di questo marchio sono identificati da atleti professionisti di vari gruppi nazionali, mondiali e anche campioni olimpi. Che li usano per aumentare la loro efficienza in un mezzo tutto naturale per l'allenamento e i concorrenti. Grazie alla sua preferenza neutra puoi fare specialità piacevoli e anche appetitose. Per preparare, tutto ciò che devi fare è mescolare 50 g di polvere 2 misurini con 150 ml di acqua in uno shaker e anche scaldare l'impasto in una padella calda. È un articolo prodotto in Germania, prodotto in conformità con la legislazione alimentare tedesca e seguendo le rigorose linee guida un Lavaloo Eniso 9001-2008 e IFS, per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. BPR Nutrition Oat Protein Pantake Original, 750 g. Il lavoro di preparazione può essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata, come colazione sana, deliziosa delizia o spuntino. La formulazione di questa miscela include farina d'avena e farina d'avena, che è un'eccellente risorsa di carboidrati di alta qualità, proteine vegetariane, grassi insaturi, nutrienti B come ferro, calcio e zin. 100 g di articolo includono oltre il 61% della quantità giornaliera suggerita di beta-glucani fibra insolubile che contribuiscono al mantenimento dei tipici livelli di colesterolo nel sangue. L'avena è accompagnata da una selezione equilibrata di proteine senza il miglioramento dell'aspartame. Almostat è top of our list at number 2. Protein Pantake 1036 g. Coconut Vite Shock. La sua irresistibile preferenza di bianco viziato e cocco ti farà conquistare al primo morso. Ogni offerta da 37 g offre diversi macronutrienti che permettono di mantenersi in perfetta forma 2,1 g di grasso, 16 g di carboidrati di cui solo 3,2 g di zucchero, il resto sono fibre e anche maltodestrina che aumentano la digeribilità, 11 g di proteine. Le proteine provengono da vari derivati del latte e albumi d'uovo. E infine il numero 1 della nostra lista. Preparato per Pancake Proteici Colazione ad alto contenuto proteico. Questi Pancake contengono 30 g di proteine sane per porzione, che è l'equivalente di 5 volte più di quelle tradizionali. Generata con proteine derivanti da siero di latte, latte e proteine sane all'uovo, la miscela è sapientemente bilanciata con il miglioramento dell'avena pura, trigliceridi a catena media con un risultato saziante e anche dolcante stevia. È apprezzato per il suo ridotto indice glicemico e allo stesso modo ha un materiale a basso contenuto di zucchero. Il mix permette di preparare specialità piacevoli e gustose, basta aderire alle indicazioni sulla confezione del prodotto. Con l'aggiunta di un po' di latte puoi anche fare crepes morbidi. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.